e questo qui sono tutti i sali aromatizzati che abbiamo fatto anche preparare questo è bellissimo, questo conio questo come hai detto mi si chiama Paolo Innocenzo XII nel 1697 aveva fatto il decreto con il quale è stata trasferita la città qui dove tutto è e questo è uno scudo e con 40.000 scudi si è ricostruita la nuova città di Cerco abbiamo un 40.000esimo della città di Cerco un'azione, una compartecipazione è cominciata prima di Natale quando con lui, il figlio, ebbe una telefonata che mi diceva che stava molto male, sono andato a New York a vedere quello che c'era che mi ha aiutato per passare un bel Natale l'ho fatto in modo che rinisse in Italia per fargli passare una bella vecchiaia grazie